turututu turututu ciao ragazzi questo è minecraft minigames e oggi se riesco a inquadrarlo siamo qui con va bene lasciamo perdere siamo qui con minecraft p-ball ah giusto ragazzi prima di cominciare vi devo dire che attenzione abbiamo già quasi raggiunto le 4000 visualizzazioni è una roba assurda adesso scegliamo un pochino vediamo quello con più tizi ok ecco quello che ho scelto io siamo in 15 su 16 quindi dovrebbe cominciare fra pochissimo intanto prima di cominciare vi spiego le regole del gioco praticamente e questo sarebbe pipe ball su minecraft con delle palle di neve e bisogna uccidere gli avversari ecco comincia noi siamo gialli sto indossando della lana gialla non ci credo ok credo che voi l'abbiate notato ma negli ultimi negli ultimi giorni sono un pochino di mal di gola quel maledetto rosso guarda che lo becco guarda come non lo becco mi ha ucciso mi ha ucciso lui ok è in shot è in shot niente è in shot pensavo di averlo colpito mi scherzo io ho sparato due milioni di volte sono milioni mi scherzo lilla non ne ho preso neanche uno mi ha fatto schifo non ci vedo nulla siiii sparo a casaccio adesso vediamo quali si ne ammazza ho svegliato il palle di neve ok noo stavo dicendo ok adesso ci vedo adesso è finito dimmi che l'ho ucciso wahoo yarg mi sta mancando in una maniera assurda che massacro abbia inizio dimmi che sto finendo le palline oddio ho finito il palline ne rimassano sole la userò in modo propicuo oh no ok è finito adesso andrò a picchiare i tizi ai mani nude è stato un suicidio inutile per sparta no pensavo di averlo ucciso forse l'ho anche ucciso oh no mi ha preso l'ho ucciso si non ci credo benissimo mi hanno anche ucciso uffa va bene un po' il suicidio è andassi a buttare in mezzo alla mischia così come sto facendo adesso appunto no stavo facendo massacro i polli perchè ci sono dei polli a terra in questo modo no stavo guardando i polli non ci vedo niente c'era un tizio lì dentro non me lo aspettavo non c'è nessuno qui sto sparando i polli sto sparando a calaccio ma lo faccio per una buona causa per la patria non ti sto facendo nulla ciao silver non so perchè va bene noi andiamo ciao lol no che è successo è finita già la partita ok ragazzi quanto fare era già finita la partita quindi siccome il video è un pochino corto in teoria ne facciamo subito un'altra oh golem che guardi la terra è brutta la terra non lo so cosa sta facendo che tiro non so perchè ma è bello correre come un cretino e saltellare qui dentro ok ok un attimo stati calmi è cominciato che arena è c'è qualcosa di epico andiamo all'attacco oddio dove siamo da qua mi sento errei di qualsiasi cosa mio dio quanti caspita abbiamo già perso come faccio a perdere così velocemente ok noi siamo sempre in blu no mi ha preso sto sparando a nulla oddio che sei stato no non so dove sto andando ok dove sono finito oddio 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 sto schivando non sto schivando più nulla ok un po' ah che liva giù che la proteggono quindi nemici 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 odio domicilio stanno arrivando di qua eh ecco di là ne ho colpito uno Ah no, quello mi sa che è dei nostri Ah, no, mi stavo spaventato Non me l'aspettavo Ah, pure l'armatura, beh, bello Oddio, oddio Mi hai mancato? No Mi hai mancato di nuovo? Ok, non mi ha mancato di nuovo Wow, ne ho preso uno o due Yeee Ok, stanno arrivando fino a qua, non è una bella cosa Ma perché non riesco a colpirlo, dai Ma chi sto sparando? Yeee L'ha colpito uno, l'ho pure sotto lui Oddio Si bombardano Ok, non ne vedo più nessuno Io procedo, avanzo Non sto avanzando, sono caduto Ok, non so dove sono finito Dicevano che spara palle di neve di tanto Ci sono No, mi assacro No, via luce, sono loro Dai Vai avanti Oddio mio, quanti caspita erano che ci stavano sparando Non ci credo Ok, sono pure cieco Non è una bella cosa Ok, spariamo C'è la tecnica migliore Se non funziona E funzionerà di nuovo Oppure no No Ok, ok Oddio, oddio Cos'è successo? Va bene ragazzi Direi che abbiamo giocato anche per abbastanza tempo Sì, lo so, sono soltanto 8 minuti Ma direi che può andar bene Tanto non è che sia poi un gioco Va bene ragazzi Questo era P-ball E io mi sono suicidato Quindi ciao ragazzi E noi ci vediamo nel prossimo episodio Va bene